Musica Buon pomeriggio e vi ritrovate al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in apertura alla politica. Se Fabio Romito viene eletto sindaco, verrò a fare l'assessore della cultura, così il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che è arrivato a Bari questa mattina a sostegno proprio del candidato sindaco del centrodestra e il servizio di Serena Russo. Se io fossi un cittadino con ideali di centrosinistra qui di Bari, voterei per il candidato del centrodestra, perché le incrostazioni decennali del potere fanno male, sono qualcosa che sono contro la democrazia. Quindi anche a voi invito a votare per il candidato del centrodestra. Ma il ministro della cultura Gennaro San Giuliano non si ferma qui. Se è giuridicamente possibile, lo devo far verificare agli uffici, aggiunge, e se non ci sono incompatibilità, mi piacerebbe fare l'assessore della giunta Romito per un periodo anche breve, per poter avviare progetti significativi sulla città di Bari. Bari è la mia seconda città, spiega ancora il ministro, in visita nel capologo pugliese per sostenere il candidato di centrodestra in questi pochi giorni che precedono il ballottaggio. Fortemente legato alla città, spiega, cita il rapporto con Pinuccio Tatarella, ma anche con l'emittente Telebari, di cui è stato direttore responsabile. Io conosco benissimo questa regione perché l'ho frequentata a lungo. Diciamo che Bari è la mia seconda città dopo Napoli. Ho anche fatto il direttore di Telebari e ho diretto il quotidiano Roma e la redazione del Roma di Bari, quindi conosco benissimo il territorio, le sue aspettative. È una città di grande tradizione culturale, di nobilissima tradizione culturale e il ministro della Cultura, come non mai in passato, è impegnato per la cultura in questa città. A Bari, città che vanta una lunga tradizione culturale, continua il ministro, manca una vera rassegna. Punta più volte sul concetto dell'alternanza in politica. Il sale della democrazia, dice, prima della visita nel Castello Svevo e nel Teatro Petruzzelli, per cui è stato fatto, racconta, uno stanziamento straordinario. Bari ha bisogno di guardare avanti, ha bisogno di evolversi e di abbandonare le zone di comfort che in questi vent'anni di sinistra hanno caratterizzato l'azione politica di chi governa da vent'anni. Bari ha bisogno di un festival internazionale, di un festival delle arti visive. Bari ha bisogno di guardare avanti. Noi siamo naturalmente la capitale del Mediterraneo. Qualche d'uno ci ha voluto relegare ad una città per cui la cultura, come ha detto esattamente il ministro, serve quasi esclusivamente per aiutare qualche piccolo operatore culturale. Noi invece continuiamo a parlare di politica. Un incontro al mese con tutti i comitati di quartiere. Anna Maria Ferretti, nuova presidente del primo municipio e ospite all'interno del nostro Buongiorno Bari, ha parlato dell'organizzazione del lavoro per i prossimi cinque anni. Ascoltiamo uno stralcio delle sue parole. La prima cosa che io credo sia necessario fare è aprire il municipio. Io in questi giorni di campagna elettorale ho incontrato persone, ma ho incontrato anche persone che hanno avuto la buona volontà nel corso di questi anni, di riunirsi in comitati di quartiere. Sono quindi già contesti che portano un vissuto e delle richieste importanti al municipio. Quindi la prima cosa che farò, a parte voglio dire, un giorno al mese in cui chiunque voglia mi incontra, e io ci sono, ma calendarizzare un incontro al mese con i comitati di tutti i quartieri. Per fare il punto. Sì, perché questo, guarda, è nato a Sant'Anna da un incontro molto vivace e anche propositivo. Noi invece passiamo alle notizie provenienti dal nostro sito web www.telebari.it Lo facciamo come ogni giorno con il nostro Tiziano Tridente. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Sì, eccoci Giuseppe, in primo piano dal nostro sito La Cronaca. Gravissima Bari, i ragazzini si riprendono mentre gettano in mare una persona con problemi psichici. Il video shock con questa descrizione viene condiviso da Emergenza Baby Gang e Bullismo, canale Telegram, che ripropone un filmato di pochi secondi, inizialmente pubblicato su TikTok, in cui è ben visibile una persona che cammina, a passo incerto a pochi metri dallo specchio d'acqua, antistante e lungo l'ombra di Bari, e che all'improvviso viene spinta in acqua con un calcio da un ragazzino. Grande indignazione social, ma non solo. Ho visto anch'io quel terribile video, commenta l'assessore al welfare Francesca Bottalico. Ho provato tanta rabbia e invito chiunque avesse notizie in merito a denunciare. Al momento però sul caso non risultano interventi o indagini delle forze dell'ordine. Restiamo in città e proseguiamo con le tante segnalazioni arrivate in redazione sul tratto di pista ciclabile che collega via Pacapruzzi e il parco 2 Giugno. Un vero e proprio percorso a ostacoli, dicono i ciclisti, e chi percorre quella strada col monopattino, immondizie vestiti, bottiglie di plastica e un tappeto di vetri che mette a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada. Così, ci dicono, quella pista ciclabile è davvero pericolosa. Restiamo in strada e chiudiamo con una super novità nell'orbita del car sharing a Bari, dove arrivano tre enjoy point in cui è possibile trovare e noleggiare le mitiche 500 rosse che dal 2013 colorano Milano. In tutto otto le auto ibride messe a disposizione dei baresi, tre in zona aeroporto, due in via Mendole, tre al sottopasso Duca delle Abruzzi, sempre accanto a una stazione di servizio Eni. Tutte le info anche sui costi del noleggio su telebari.it. A te. E grazie, grazie al nostro Tiziano Tridente. Noi voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Dieci persone sono state arrestate dalla polizia per un tentato omicidio avvenuto nel quartiere Madonnella nel 2018. L'inquirenti hanno fatto luce su una faida tra i clan Strisciuglio e Palermiti. Cercarono di uccidere due esponenti di un clan rivale esplodendo colpi di pistola tra i passanti. Gli agenti della polizia di Bari hanno arrestato dieci persone, tutte pregiudicate per un agguato verificatosi il 18 settembre 2018 nel quartiere Madonnella. Dovranno rispondere con l'aggravante mafiosa di duplice tentato omicidio aggravato, detenzione di armi, ricettazione, calugna e danneggiamento seguito da incendio. L'episodio risale ad una faida tra due organizzazioni criminali di spicco. La frangia dell'Istrisciuglio, residente nel quartiere San Paolo, tentò infatti di conquistare l'attività di spaccio nel quartiere Madonnella cercando di estromettere il clan Palermiti, da sempre dominante in quel rione. La sera del 18 settembre gli obiettivi dell'azione di fuoco erano due pregiudicati del clan di Yapigia che viaggiavano su uno scooter. Il commando armato a bordo di un'autovettura rubata di tre motoveicoli aprì il fuoco incurante della presenza di ignari cittadini che passeggiavano per strada. Il passeggero dello scooter, secondo quanto accertato dalle indagini, riuscì a sottrarsi ai proiettili mentre il conducente, colpito in più parti del corpo, riuscì a salvarsi dopo un delicato intervento chirurgico e una lunga degenza in ospedale. Compiuto l'agguato, una delle moto utilizzate dai sicari fu date alle fiamme sulla strada provinciale Bitonto-Palese, mentre per le altre moto appartenenti ad esponenti del clan Strisciuglio furono presentate false denunce di furto con l'obiettivo di ostacolare le indagini. La risposta del clan Palermiti per l'agguato del 18 settembre non tardò ad arrivare, infatti sei giorni dopo, il 24 settembre, nel quartiere Carbonara di Bari, Michele Walter Raffaschieri fu assassinato e suo fratello rimase gravemente ferito. Per le persone arrestate, di età compresa tra i 25 e i 47 anni, è stata disposta la custodia in carcere e solo uno dei destinatari del provvedimento è stato collocato agli arresti domiciliari. Noi invece ora parliamo di turismo perché cresce il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi in questi primi mesi del 2024 e intanto nuovi mercati esteri sono pronti a puntare sulla Puglia. Code ai banchi dei check-in, centinaia di turisti in arrivo da ogni angolo del mondo e un traffico aereo mai registrato negli ultimi decenni. Il sistema aeroportuale pugliese continua a crescere, i dati dei primi cinque mesi del 2024 sono più che soddisfacenti. Da gennaio a maggio il traffico internazionale tra Bari e Brindisi è cresciuto del 18,3% rispetto al 2023. Numeri in crescita soprattutto nel mese di maggio con un più 24% per il caro Voitila e più 21,5% per l'aeroporto del Salento. I mercati più affermati in Puglia sono quelli tedeschi, britannici e svizzeri. Anche se non mancano le sorprese è in forte ascesa quello polacco con un boom di arrivi negli ultimi mesi. Aumenta in maniera costante anche il numero di francesi che scelgono la Puglia per visitare le bellezze naturali ma anche architettoniche presenti nel tacco d'Italia. A trainare lo sviluppo del sistema aeroportuale pugliese sono soprattutto gli accordi stretti con le compagnie aeree che portano nuovi collegamenti con l'Europa, ma non solo. Nei prossimi 5 anni abbiamo fatto degli investimenti proprio sulla gestione del traffico sugli tre scali più importanti, quindi Bari, Brindisi e Foggia per i quali ci aspettiamo più o meno ulteriori 5 milioni di passeggeri ai 9 milioni già raggiunti. Quindi abbiamo dato un'ossatura estremamente forte in modo tale che anche le organizzazioni che oggi seguono il turismo in Puglia possano programmare, unitamente allo sviluppo economico di questo territorio, ulteriori investimenti. Noi restiamo in tema perché la Puglia è ormai una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. Siamo andati a capire proprio in città come i cittadini valutano questo enorme flusso di vacanzieri che arriva nel capoluogo pugliese. L'estate è ormai iniziata ed è il momento di scegliere la destinazione delle proprie vacanze. Negli ultimi anni la Puglia è stata scelta da un numero crescente di turisti provenienti da tutto il mondo. Ma i pugliesi cosa sceglieranno per l'estate 2024? Rimanere in Puglia o partire per altre mete? Per quanto riguarda le vacanze, mete italiana o straniera? Straniera, infatti sono tra poco in partenza per Bali. Innanzitutto il paesaggio e anche per la cultura, perché la cultura particolare mi affascina. Mi piacerebbe riandare in Francia un'altra volta. Questa è la seconda volta che sono a Puglia, quindi l'ho già scelto per la seconda volta. Le città hanno identità, sono bellissime, anche il cibo è buonissimo, anche la gente è accoglievole, quindi secondo me le spiagge sono bellissime. Ma a quanto pare la Puglia è diventata una meta turistica costosa per alcuni, obbligandoli ad una scelta più economica. Quest'anno abbiamo scelto la Calabria. Come mai? E visitiamo una meta diversa, non la solita. Poi la Puglia è diventata intoccabile perché costa moltissimo. Tra tutti c'è anche chi ha scelto di trascorrere le proprie vacanze nella città più gettonata del momento. Bari, perché è la città più bella d'Italia, se non d'Europa. È una città sul mare, quindi ci sono tantissime cose da fare. Oltre lo shopping, ma abbiamo delle meravigliose spiagge. Venite a Bari. Noi passiamo alla cultura perché è stato presentato il libro Un caffè al bar della Cattedrale in piazza dell'Odegitria. Tutti i dettagli nel servizio. Un caffè al bar della Cattedrale, edizione Gelso Rosso. Il titolo dell'ultimo libro di Michele Cassano presentato in piazza dell'Odegitria esattamente al lato della Cattedrale. A partire dalla scoperta della proiezione delle immagini del rosone in sovrapposizione al pavimento della Cattedrale che avviene il giorno del solstizio d'estate, il volume raccoglie una serie di dettagli storici correlati da bellissime fotografie d'epoca che raccontano l'evoluzione di Bari attraverso le varie epoche. Io racconto al professor Caccavale proprio la scoperta del solstizio in Cattedrale, che fra pochi giorni celebreremo il 21 giugno. Qui c'è la foto della scoperta e quindi io raccontai a lui quel giorno la scoperta della Cattedrale. Quel 5 giugno del 2005 nella Cattedrale, da poco riaperta al culto dopo i restauri, casualmente Michele Cassano scoprì il fenomeno dimenticato da secoli del solstizio d'estate, quando i raggi pomeridiani del sole filtrati dal rosone della facciata del Tempio vanno a congiungersi perfettamente con i 18 petali del rosone pavimentale posto davanti all'altare maggiore. Che cos'è per lei il solstizio? Il solstizio rimarrà per sempre nella mia memoria, è un'emozione unica che provai nel 2005 quando ho scoperto questa meraviglia e all'inizio nessuno ci credeva, ora è diventato un evento per la città ma soprattutto anche per i turisti. Ed è arrivato il momento di passare alle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dalle altre province pugliesi. Partiamo da Monopoli per parlare del Prospero Fest, il tradizionale evento culturale che si svolge nel Porto Antico della città e partito con numerosi ospiti d'eccezione. Torna a Monopoli il Prospero Fest, evento culturale promosso dall'amministrazione comunale in programma fino al 21 giugno nel Porto Antico della città. L'evento tra le rassegne selezionate dal Salone Internazionale del Libro di Torino permette di approfondire temi di grande attualità attraverso 11 incontri con importanti autori. Ad aprire la sesta edizione della rassegna Francesco Giorgino, direttore dell'ufficio Studi Rai, con una conversazione dal titolo L'informazione nell'era digitale, come sta cambiando la comunicazione? Dobbiamo approcciare il digitale considerando sia gli aspetti più sociologici, che naturalmente sono il frutto anche di aspetti più squisitamente tecnici, sia gli aspetti antropologici. Ecco, la tesi che si sostiene è questa. A chiudere la prima serata la presentazione del libro Israele e i palestinesi in poche parole con il giornalista e scrittore Marco Travaglio. Un incontro sulla storia del conflitto che da secoli sconvolge le popolazioni del Medio Oriente è tornato prepotentemente attuale in questi mesi, moderato da Sergio Rizzo. Ho fatto questo bignami di una guerra che dura da cento anni per capire perché siamo arrivati a questa tragedia, l'ultima di una lunga serie e come eventualmente se ne potrebbe uscire. Non saprei quando, visto l'odio che ormai divide le due comunità, quella israeliana e quella palestinese, ma insomma si portano dietro sulle spalle cento anni di odio e di guerra che non è mai finita. Tante le personalità attese sul palco del Prospero Fest fino al 21 giugno, da Luca Bianchini a Lino Patruno, passando per l'ex ministro Carlo Cottarelli, Umberto Gallimberti, Andrea Vitale e Stefano Zecchi. E Prospero vuole essere un riassunto di quello che succede in un anno intero proprio nella nostra biblioteca, attraverso incontri diretti con autori di libri, con personaggi che parlano di tante tematiche. Andiamo ora a Manfredonia dove otto persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e distorsione al servizio di Nicola Saracino. I carabinieri della compagnia di Manfredonia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto indagati, di cui sette in carcere e uno agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e distorsione. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, rappresenta la prosecuzione di un'ulteriore indagine della compagnia di Manfredonia che aveva portato nel febbraio 2022 all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di tre persone accusate di spaccio di sostanza stupefacente. Gli inquirenti hanno scoperto da gennaio ad agosto 2023 un florido traffico di cocaina e hashish venduti sia all'ingrosso che al dettaglio a Manfredonia dove non mancava il ricorso alla violenza e a minacce di ritorsioni da parte di un indagato nei confronti di due vittime per la riscossione di un vecchio debito di oltre 2.000 euro maturato per l'acquisto di droga poi saldato in almeno due tranche. Nel corso delle indagini due persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sette assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia. Ci spostiamo invece ora a Lecce dove i vigili del fuoco preoccupati per l'emergenza incendi hanno scritto una lettera al prefetto ce ne parla Fabio Serino. I vigili del fuoco di Lecce lanciano un disperato grido di allarme scrivendo al prefetto di Lecce Luca Rotondi Nella lettera si legge il soccorso è al collasso A nulla sono servite le esperienze emergenziali che hanno colpito la provincia di Lecce negli scorsi anni Il nostro è un grido di allarme che anche quest'anno rivolgiamo a tutte le autorità che esercitano responsabilità in relazione alla sicurezza Quest'anno i vigili del fuoco del Conapo ma tutti i vigili del fuoco sono estremamente preoccupati per quello che potrà accadere durante la stagione estiva una stagione in cui gli incendi boschivi rendono estremo l'impegno dell'apparato di soccorso un apparato di soccorso tarato per la stagione invernale che è come se non vedesse l'aumento della popolazione della penisola salentina durante l'estate a causa dell'afflusso dei turisti e non si adeguasse che è quello che accade l'amministrazione non adegua l'apparato di soccorso in termini di risorse umane e risorse strumentali e noi affrontiamo una stagione estremamente calda con quello che già non è sufficiente per quella invernale Questo è un grosso problema anche perché a questo si aggiunge una carenza di organico importante e una carenza di automezzi importantissima E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale L'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito web Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata Ben trovati da Nikos Chiodetto a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo Nella giornata di mercoledì l'alta pressione interesserà l'Italia, la penisola balcanica e la Grecia Il tutto dovuto a questa zona di bassa pressione tra Portogallo e Spagna che appunto richiamerà l'alta pressione sub-tropicale sull'Italia con aria bollente dal deserto del Sara verso nord-est, verso l'Italia Temperature che qui nei prossimi giorni toccheranno al centro-sud anche i 40 gradi Andiamo al focus sull'Italia, quindi una giornata serena, con cieli sereni o poco involosi Le temperature però già fino a 38 gradi sulle centrali tirreniche 32-33 gradi anche al nord-ovest Da segnalare invece nella seconda parte di settimana i 40 gradi possibili al sud Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo